ciao eccoci qui scusate se vedrete questo video qualche giorno in ritardo ma ho avuto a rientro tante tante commissioni da sbrigare ancora non l'ho finite tutte devo ancora sistemare la valigia ma mi rifarò niente io sono un pochino abbronzata anche se non si vede tanto per la luce però dai sono tornata sono un po più rilassata e sono contenta davvero di averla fatta perché mi serviva veramente tanto infatti mi sono staccata da tutto e da tutti purtroppo perché appunto volevo proprio rilassarmi senza pensieri senza niente è quello che ho fatto e niente io adesso vi lascio di seguito delle riprese che ho fatto nel viaggio dell'annata ho ripreso vari momenti per che si vede tutto il tramonto così sembrava una cosa carina anche a farvi vedere e poi vi metto dei video dove vi mostro la camera e tutto l'albergo in generale poi il mare ovviamente quindi adesso non so se dividirò questo video in due parti ma comunque in tal caso vedrete un video intero o due parti dipende quanto lungo viene e niente spero di avervi detto tutto ovviamente c'è anche un pezzo dove io sarò sul tetaro alla fine ve la metterò dei video dove vi mostro il mare e ci sono anche gli scoi con soprattutto i gabbiani l'acqua limpida con i pesciolini insomma sì tante belle cose e vi farò un video a parte dove vi parlerò in tutti i minimi particolari di tutta la vacanza ovviamente se vi può interessare fatemi anche delle domande qua sotto e niente 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 sto editando il video sul computer quindi scusate se mi giro qui ma perché sto editando il video e niente questo è tutto ciò che volevo dirvi sì e niente mi lascio il video allora e buona vita ciao 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 buongiorno a tutti eccoci che in questo video vabbè l'intro l'avevo già fatta allora siamo al mare e adesso vi faccio vedere la nostra stanza allora partiamo subito dal bagno qui c'è la doccia qui vabbè i sanitari eccetera eccetera lo specchio ciao il lavandino qua poi c'è un gradino io c'ho ancora la valigia poi qua fuori c'è un balconcino bello grande e questi sono degli armadietti il letto poi c'è un lettino piccolo con la mia bambina e la televisione e niente questa è tutta la nostra camera e niente poi se riuscirà vi farò vedere anche l'hotel fuori non so adesso vediamo e niente quindi buongiorno a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.